Sconfitta ma dal dolce sapore per l'Arezzo Calcio Femminile, che festeggia ugualmente il raggiungimento della salvezza contro i gare di anticipo. Le Amaranto perdono una zero in casa contro il Cittadella, ma il contemporaneo K.O. del Tavagnacco sul campo dell'Ellas Verona fa scattare la salvezza matematica. A decidere l'incontro del Comunale è la rete di Congoli allo scadere del primo tempo. Ad inizio ripresa, clamorosa occasione per il pari fallita da Razzolini. L'Arezzo Calcio Femminile giocherà dunque in Serie B anche nella prossima stagione. Mentalmente siamo salvi da tanto tempo per me, perché comunque mancano ancora tre partite e abbiamo appunto dieci punti dalla terza ultima, quindi siamo sicuramente cresciuti nell'ultimo periodo e sono molto soddisfatto perché stiamo vedendo un gioco importante e anche divertente. Quindi al di là del risultato oggi è 1-0, ma è una partita molto equilibrata con appunto la terza in classifica. Quindi questo sta, insomma, stiamo vedendo veramente i valori della nostra squadra. Alla fine credo che le ragazze abbiano fatto qualcosa di straordinario, perché non era facile a un certo momento, visti i risultati negativi che avevamo costantemente, ci siamo ripresi. E anche oggi credo che la squadra abbia fatto una prestazione di altissimo livello, ha perso con una squadra molto forte, forse tra le più forti del campionato, ma ha avuto anche un paio di situazioni dove poteva tranquillamente pareggiare la partita. Perciò merito a quello che hanno fatto fino ad oggi e cerchiamo di concludere nel migliore dei modi, cercando di fare più punti possibili, vedendo di magari avere una classifica ancora migliore di questa. Ci ha messo a dura prova e è un campionato che fino alla fine non puoi staccare, nel senso non puoi star tranquillo, perché fino alle ultime partite comunque dovevamo star con la testa lì. Noi come comunque tutte, perché ancora lassù stanno lottando, in basso per la retrocessione stanno lottando, quindi ancora è lunga. Però la testa vostra sarà più libera nei prossimi match? Sì, sicuramente sarà più libera, saremo più tranquille e felici.